Il Messico offre asilo politico a Julian Assange, il 49enne giornalista australiano fondatore di Wikileaks, che gli Stati Uniti vogliono processare con l'accusa di spionaggio. Ieri una corte britannica ha negato l'estradizione che aveva richiesto Washington, motivandola col rischio che l'accusato possa tentare di suicidarsi, dato il suo stato psicofisico dopo sette anni di permanenza nell'ambasciata ecuadoriana a Londra e un anno e mezzo di detenzione in Gran Bretagna. Parallelamente il presidente messicano López Obrador ha rivelato che il suo paese ha intrapreso i necessari passi diplomatici per accogliere Assange una volta messo in libertà dalla Gran Bretagna. Ora l'attesa è rivolta all'udienza del 6 gennaio a Londra, in cui si deciderà in merito alla richiesta di libertà su cauzione presentata dalla difesa. Negli Stati Uniti e Assange rischia condanne fino a 175 anni di carcere per avere diffuso nel 2010 più di 700.000 documenti classificati su attività militari, diplomatiche e informative statunitensi, soprattutto in rapporto a missioni militari in Iraq e Afghanistan. Tra i materiali rivelati da Wikileaks anche un video risalente al 2007 in cui si vede un elicottero militare statunitense in Iraq che apre il fuoco uccidendo dei civili, tra cui anche due giornalisti dell'agenzia Reuters.